Ciao io sono Francesco Amura e lavoro come chef presso il mio ristorante in centro Bologna ma nel tempo libero amo creare e portare avanti tutti i miei hobby creativi tra cui The Bologneser che è la rivista immaginaria che attraverso le sue copertine descrive la città di Bologna in tutte le sue sfaccettature. Tre aggettivi per descrivere Bologna? Allora il primo sicuramente è umana perché è a misura d'uomo, è a misura d'essere umano e pur essendo una grande città mantiene comunque il sapore del paesone, del villaggio in cui si conoscono tutti. Il secondo è sicuramente creativa perché c'è sempre questo fervore artistico e questa costante esigenza di esprimere l'arte che sia attraverso i muri dei palazzi o nelle mostre della città. Il terzo oggettivo è protettiva perché offre molto chiedendo poco in cambio a tutti coloro che abbiano bisogno di protezione, rifugio e un po' di conforto. Grazie ai ragazzi di Bologna Welcome per l'opportunità.